Ciao a tutti ragazzi, io sono Brumatti ed eccoci su Minecraft, questo è ancora un bellissimo episodio perchè apro ufficialmente il mio server per Minecraft 1.14 Aspettate, salutate, mi siete? In video Raga, è il mio nuovo server, si Raga dovete scrivermi però i vostri nomi perchè sto qua in privato quindi non c'è perchè l'ho fatto privato Dove? Scrivervi i vostri nomi sui commenti di Minecraft Cioè dei vostri nomi di Minecraft Io vi aggiungo, guardate vi do il lip Vi dovete dire però vi dovete dare i vostri nomi Guardate raga, mi dovete dare i vostri nomi Aspettate Ecco Non vorrei che rompano No, 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 no No Oh, su qua non mi devi rompere qua Aspettate No Ecco Ciao Supergirl Ok raga Levi Ecco C'è una cosa No, vero, non posso mettere le impostazioni raga Non siamo in quattro perchè questo video è preparato raga Siamo preparati per questo video Cioè No, perchè il titolo esplode Raga, io l'ho messo abbonato Eh, non mi sto abbonato di già, vabbè Raga, siamo tutti preparati qui Corri Raga, adesso Tre Due Uno Lo scriveranno tutti Listo Lo stanno scrivendo Entrata È il server di Bromati Oh No, no, no Adiniti Raga 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 Raga, questo qua è il mio server ufficiale È il mio server ufficiale di Bromati Io lo aiuto Ip E tutte cose Un attimino lo scrivo qua Ip Gio Matti Zero Punto Punto a Ok Punto a Tennis Punto me Porta La portata È il mio server ufficiale di Bromati trattino basso 0 punto Aternos punto me la porta invece 1,6,2,6,3 tramite l'aumento e scrivetelo da qualche parte ve lo tengo qua ecco ho un solo paura che mi metterlo e credo che ve lo lascio qua per un po' speriamo che l'avete fatto comunque raga lo scriverò prima prima di farlo tutto adesso raga faccio clear clear a e lì sarà oh oh dovete vedere d'occhio oh che è successo ciao alex sei in video mio sto annunciando annunciando il server il mio server si raga raga lui mi ha aiutato a sfarlo tutto raga mi ha aiutato no 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 ve lo togliete dalla testa raga ma sono psicopatici questi qua cioè non loro raga loro fanno festa per i sfarlo ma vado raga raggio ma comunque se ve l'ho aperto facciamo anche in golo si anche perché fra poco sono ai 50 raga quindi questo qua è tipo uno speciale 50 iscritti quasi l'ho fatto anche perché wgf fan l'ho aperto quindi auguri wgf fan 3 million di iscritti lion si apre il mio server si vediamo il rango aspettate raga però game mod 0 non si è andiamo game mod 1 ragazzi proprio forse no che niente non ricordo c'è non c'è game mod 0 c'è quasi raga qua dentro ci dovete entrare perché no spoiler ve lo prometto di che non vi spoilerò un cavolo game mod 1 sì certo giro ragazzi siamo troppo felici del mio del mio nuovo server oggi vista sale io penso anche io andiamo raga venite qua faremo anche le guerre fra fazioni qua come la vecchia lunar che è lunar vabbè raga game mod 0 no lo so quale è rotta raga no no aspettate no raga questo no no raga non c'è manco la copia del mondo io questo qua non è un mondo fatto così raga tu qua è un surfer raga niente tnt mi lo metto abbonato raga tu mi lo metto abbonato appena fa qualcosa cioè raga dai qua si festeggia raga si oddio no 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 ok si regia i gotta get bit yeah serwer uccefee oh echo oh no 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 toca la roche echo no 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 Vattie Questo è il server delle fazioni. Raga, questo qua in realtà sarebbe un server di fazioni. Ma vattene, fatti la fazione, ma che t'ha detto cosa a te? Aiuto, ok raga, vi faccio un incudine. Ah no, aspetta, ma io è vero, ce l'ho già l'incudine. Sì, sì, molto rotta, però l'incudine ce l'abbiamo. Raga, è vero. Andiamo. 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 Affilatezza. No, no, no. Raga che sta distruggendo. Già l'ho 13, vero? No, maldetti. Ferma. Era già questa spada con affilatezza potentissima. Andiamo, raga. Andiamo. Fuoco. Ecco, aspetta, di fuoco. Riparazione. 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 Indistruttibilità. Conterraccolpo. Verà che è un botto. la mia spada è se... Sì, 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 sì. c'è una cosa dobbiamo seguire un colpo di vino si, lo chilo è rata dobbiamo seguire 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 ecco dobbiamo seguire dobbiamo seguire dobbiamo seguire dobbiamo seguire dobbiamo seguire dobbiamo seguire da dobbiamo seguire 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 muori muori eh no ti lo scordi a lego già la verà che a prender che rimasto che adesso vende noi No, non c'era 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 No, non c'era